Stasera metteremo a sedere quasi 800-900 persone e ci saranno 100 chef della nostra associazione che prepareranno una cela di gala nel lungomare della Marina di Dietri. Tutto questo per festeggiare i 60 anni della nostra associazione. Questa cena per mille persone servirà anche a fare del bene, perché tutto il ricavato della cena andrà a fine beneficio per due associazioni fantastiche di volontariato locale. Quindi siamo molto contenti di essere qua e noi ci impegneremo per fare una cena veramente memorabile. La cena sarà, come ho detto prima, nella Marina di Dietri. Prima, dalle 18 alle 20, ci sarà invece l'aperitivo nel corso di Dietri Altra, dove ci saranno tantissimi banchi d'assaggio, dove tutti i nostri ristoratori da ogni regione d'Italia proporranno le tipicità e le eccellenze della propria regione.